Ragazzi, voi conoscete un po' se dovremmo fare la pizzata di classi? Eh, scusate, io conosco un po' sto per un po' buon, quindi che? Boh, c'ho partito da un po' per 5 euro, ma anche quanta pizza voi, però, comunque potremmo sentire. Va bene. Uh, la lasagna è buona, è buona. Ma lei è stato un po' più di attenzione? No, non lo so. Ballini! Non so, non so. Ballini! Anzi, Cotini! Cotini! No, avete visto il video di Stecchi che gira su Facebook? No! Cotini, trasla, Cotini! Chi è che era messo? Sto filmando, comunque potete anche salutare. Ma lo sapete che abbiamo incontrato ieri mentre passiamo una spesa all'orcio? Mi la voglio dire io! Chi? Chi? Vi faccio un po' più di attenzione. No! Per i corridori! La Pianella! La Pianella! La Pianella! Pianella! La Pianella! La Pianella! Pianella! Mi sa che si lamentava più! Ma è la Pianella! Mi liberi qua! Ma è la Pianella! 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 Esci fuori! Ciao! Ma è il mio anno? Eh sì? Ah! Pianella! Sì, vieni qua a fare una questione con me. Non si sta niente, non si sta niente. Ecco, la dimostrazione che studiare fa male? E si sta niente. Che fa anche chi può suonare la truppa.